Mugello per il terzo round e dall'Opciv 2024 e quindi arriva immancabile il round anche del HUSHU due giornalisti Alessandro Di Moro e Andrea Periccioli che vi spoiloro già è mezzo morto quindi recupererà Misano e quattro piloti Davide Stirpe, Luca Vitali, Alel Bianco e Michele Piro che recupererà il turno perduto a Vallelunga, andiamo a vedere chi ha svettato in questo round del HUSHU HUSHU riparte da Mugello col terzo round e tornato Mantovani, ciao Andrea Ciao a tutti, ciao, ciao Allora in modo raccaprizzante sostituito a Vallelunga dal povero Veleno Velini che non è andato molto bene nel riconoscimento dei piloti ma è tornato il titolare e quindi schiscia play che va a vedere la classifica generale e vediamo i danni che ha fatto il manager ne ha fatti un po' eh te lo dico Manto, tu te l'hai ricavata nel primo round di Misano ma poi è arrivato è arrivato veleno e però è rimpegnato il Manto con la moto e allora come si è messi? Vedi che mi hai perso un po' Mantovani sei del bianco, pari punti con il bianco, quarta posizione dai adesso il campionato è lungo quindi i colpi di siena sono tanti Mugello terzo round ready pronto vai, pilota no, Doriano Romboni numero 9, no ma dov'è in defiance totale, fa lappa, fa lappa porca misè vero, chi è abbe? no, con gli occhiali, Ueda, Ueda, questo, Nanna, Nannelli, no l'undici Ducati Sperbike, ehm Ciaus Ciaus dai su, no, questo dai Max Biaggi no, l'altro ehm Barros il più difficile Bautista ha preso il più difficile Bautista con il 125 9 punti li hai fatti però 9 punti li ho fatti ma è troppo veloce mi arrivavo, non riuscivo a collegare col cervello non è che sei Evelini con la maschera di Mantovani? ehm Mission Impossible facciamo qui ma Anto bisogna che mi studi per la Racing Night eh adesso vado a casa per fare il libro no, aspetta, Racing Night, sì, ci sei tu perché non sei la motore no, 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 basta, concomitanza non ce ne sono più ma volendo io la domenica ehm c'ero anche per il CIF solo che bisogna che parli un attimo con la federazione per dirgli se c'è la possibilità che uno casomai se non fa la qualifica partendo dai box può schierarsi io temo che da regolamento non si possa perché devi almeno fare un giro nelle libere però è vero perché mi hai ricordato che essendo che la motore quest'anno corre sempre sabato tu la domenica saresti free io ero la domenica mattina potevo essere già qua per il warm up però siccome dai ci sono tante cose del regolamento che sono un po' differenti che sono un po' interpretabili secondo me questa qua per venire incontro un po' ai piloti che sicuramente l'italiano è un campionato stupendo però uno lo deve conciliare con un qualcos'altro per cercare insomma di rendere il pacchetto più completo perché così almeno ti alleni di più no? sarebbe bellissimo poter fare una cosa del genere e sono disposto anche a partire qua dal box sul tappetino sei un grande, sei riuscito a tramutare il quiz del CIV in una proposta di cambio di regolamento no no però hai ragione però io credo che per schierarsi anche partendo dalla pit lane sia necessario fare almeno un giro delle libere, credo lo so adesso il regolamento è così però dai chissà chissà è sempre l'ultimo a morire ci vediamo a ci vediamo alla Racing Night a Misano ciao a tutti ciao ciao siamo a Mugello è la volta di Davide Stirpes qui si a play Davide ciao ciao buonasera controlliamo la classifica generale dopo due round ah ok eh sì perché qui la classifica avanza avremo una defezione in questo round che è quella di Periccioli in questo di moto che ha letto mezzo morto adesso vedremo con chi sostituirlo classifica generale che dopo il round di Misano e Vallelunga Davide Stirpes leader anche non solo in campionato dopo dopo la quinta gara qui dal 600 ma anche nel U perché io ho più ansia però perché è un po' più meno il mio campo si va col Mugello occhio 5 secondi a foto la più facile Rugiano no ma chi è? Doriano Romboni no Doriano Romboni neanche Mantovandi la presa vai 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 Falappa Giancarlo Falappa Giancarlo Falappa uno su due bene bene pilota Ducati Abe no Ui no No Boru Ueda hai detto il più difficile Troy Cors no Troy Bailey no Ruben Chaus Ruben Chaus quattro punti per Davide penultima Alex Barros grande stirpe Alex Barros con la Honda Camel il più difficile nove punti va adesso questo è facile Alvaro Bautista e ti dico anche l'anno 2007 7 non lo so però 7 o 8 però tu e Mantovani avete fatto la stessa cosa avete avuto difficoltà su alcuni questa che secondo me era più difficile Alvaro Bautista o 2008-2009 perché io ho corso contro di lui non con quella allivrea lì ma con la allivrea quella bianca blu a spar anche qua a Mugello secondo me o l'anno dopo a Indianapolis e me lo ricordo che mi sverniciava quindi ragazzi la sfida è l'anzata di Moro di Motospring perché stirpe ti riconosce un Barros a colpo seco così Bautista Falapa bravo bravo Barros era facile io sono cresciuto con quegli anni lì a guardare MotoGP quindi lì gioco facile gli anni precedenti ero ancora più piccolo tipo Romboni cioè li conosco però più per spizziche bocconi invece quegli anni lì guardavo tutte le gare ma la cosa incredibile è che io ho messo un borweda che era un pilota che correva con gli occhiali quindi è abbastanza semplice e tu hai detto un giapponese che io non ho mai inserito perché ritenevo troppo difficile Yuichi Ui ma secondo me anche Ui correva con gli occhiali io mi ricordo casco Arai azzurro sì però la moto sembrava la sua quindi mi ha fregato quella lì però non ho fatto caso agli occhiali un punto in più un punto in più per aver detto Yuichi Ui che se no di Cagliari dicono Yuichi chi? chi? Davide ci vediamo con l'Usu dove ha? la prossima a Misano c'è la Resinite quindi c'è da venire tutti alla Resinite ciao ciao ragazzi ci vediamo a Misano ciao Usu da Mugello è la volta di Luca Vitali ciao schiscia play perché guardiamo la classifica dopo due gare come sei messo ma ti dico già che sarai sarai soddisfatto ho fatto un recupero la scorsa gara incredibile è vero è vero a Vallelunga ha dato il meglio di sei Luca Vitali classico generale stirpe comanda ma a meno tre Luca Vitali sono abbastanza soddisfatto ti do un'anteprima non è andata benissimo agli altri piloti fino adesso per una questione anagrafica quindi forse tu che sei un po' più esperto potresti farcela si va Marcellino Lucchi no e dai e Rombori Romboni grande Vitali vai 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 Ducati Superbike no un'icona Giancarlo Falappa cagata Noboru Ueda Noboru Ueda grandissimo ti favo per lui ti favo per lui Vitali non ha gli occhiali ma Ducati numero 11 Superbike no chi è Rubens House si va sui edifici questo è Barros Barros ma questo è Barros facile per Vitali attenzione la più difficile Bautista 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 beh però con una livrea è proprio antica questa di Bautista questa era molto semplice mi aspettavo di più io ti dico che quest'anno potrebbe esserci sì potrebbe esserci un derby Vitali Stirp cioè tra piloti perché Stirp è andato bene però tu tieni il passo tieni il passo dovrò inventarmi qualcosa adesso anche perché io non ho ancora detto una cosa al vincitore l'anno scorso di Moro che la coppa che gli è stata consegnata è come la coppa del mondo di calcio cioè ogni anno cambia mano cioè chi vince quest'anno gli ciula la coppa di Moro ok anche perché finora non è che ho portato a casa tante coppe quest'anno quindi una una mi serve no no non ti buttarci così sarebbe bello sarebbe bello però guarda ho scoperto il trucco adesso la prossima volta non ce n'è per nessuno è lui è un mezzo hacker cioè lui lui studia gli interstizi informatici devo limare dove posso devo limare Luca dove ci vediamo con la prossima tappa del USU mi sembra Misano se va bene per là Racing Night grandissimo in bocca al lupo Luca ciao ci siamo riparati all'interno perché a Mugello incredibile piove ciao Ale buongiorno ciao ragazzi sono già teso sei pronto per la sfida del Mugello del USU spingi play così intanto vedi la classifica generale dopo due round ho sentito che questo è già complicato già si vocifera qua nel paddo quindi si vocifera che si ostica la tappa del Mugello del USU classifica generale allora abbiamo il buon stirpi in vantaggio Vitali però 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 di Moro del Bianco Mantovani non sei messo malissimo 23 punti sono un bel bottino e poi ho 10 punti su Pirro che comunque Pirro mi manca una prova manca una prova deve recuperare 1-0 se la posso vai quella più facile nessuno l'ha indovinata più facile 15 Doriano Romboni vai 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 scusa Kocinski no Ducati Superbike Fogarty Falappa Aoki 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 Weda 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 Fogarty no Corsair No, quell'altro, quell'altro ancora, Rubens House, Rubens House, no, terribile, no, 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 questo è Barros, Alex Barros, molto bene, 6 punti per la biancola più difficile, sei pronto, vai, Bautista, Bautista ragazzi con quella motoretta a mezzo bocchino lì la riconoscono tutti, sì perché questa è la nostra generazione, è difficile perché è 250, 125, chi la guarda, però noi le guardiamo, si sono invertiti i valori, mi hanno sbagliato tutti quelli che io ritero più facili e hanno preso tutte quelle che io ritero più difficili, perché quelli dove io ero già nato almeno li ho visti, io ci ho giocato al Playstation, dove non ero nato li ho sentito, li ho viste qualche volta, capito? La differenza, lui dice ci ho giocato al Playstation, Stilpe dice io ci ho corso, questa è la differenza di anagrafica, ecco il punteggio, difatti è un po' scorretto, bisognerebbe farlo su Premoto 3 che dopo noi siamo più preparati, capito? Devo fare due categorie, forse senior e junior, hai ragione, hai ragione, prossimo anno Dove ci vediamo con la prossima tappa del WUSU? Misano, Racing Knight Bravo DB, ciao Ciao Come di consueto l'ultima partecipante del weekend del Dunlop Chief è Ale Di Moro, ciao Ciao, allora l'altra volta ero quasi unfit, quindi stavolta recupero Allora l'altra volta ero unfit perché c'era il sole che riflesso, oggi è distrutto perché è la fine del weekend, siamo tutti un po' così Quindi insomma sarà un po' difficile, schisci a play così, Ale vedi quella situazione del WUSU dopo due round Avrai delle sorprese, è vero, comunque ti dico già che Stilpe va fortissimo, io te lo dico, la generale E non solo in pista insomma Stilpe 35, Vitali 32, Di Moro 30, sei chiamato alla remontada? Eh sì sì, non devo adagiarmi sugli allori Vediamo perché in realtà c'è stato, adesso vedrai Siamo pronti, Mugello round 3, via col WUSU Eh beh questo è Doriano Romboni Doriano Romboni uno su uno ha creato difficoltà tantissimi, non si sa perché Beh Giancarlo Falappa Beh ma naturalmente Giancarlo Falappa ha sparato di tutto su Falappa, Fogarty, vabbè Terza foto Questa non ce l'ho Era Noboru Ueda Ruben Chaus Ruben Chaus detto con una sicurezza terrificante Bravo Ale La penultima Ah questo è Alex Barros Alex Barros c'è una rimonta incredibile di Di Moro Ultima più difficile, indovinata a tutti Vabbè Alvaro Bautista Vabbè Alvaro Bautista Io l'ho messo comunque una mottina piccola di mille anni fa Rimonta perché dovresti averne mancata solo una Eh sì solo Ueda che poteva arrivarci in realtà però dai va bene Ueda che se adesso poi vediamo la classifica direi che Vitali l'abbia beccata Non so come Vitali non me la dice tutta comunque Io non ho capito perché Vitali più sono difficili più si gasa Guarda sono sincero perché sempre le robe che non si capisce perché però fai un 5 su 6 secondo me Fai un po' di rimonta anche se ti dico stirpe è ferrato Stirpe è forte ma ci tengo a dire che Vitali è andato fortissimo sia in pista che qua perché non c'era Periccioli Periccioli non c'è perché sta morendo e quindi recupererà con doppio punteggio durante la Racing Night Quindi ci vediamo a Misano Grazie a tutti